I pericoli e le insidie ai tempi del mondo virtuale al centro dell'incontro sulla sicurezza, sul web e sul cyberbullismo. L'iniziativa rivolta a docenti, alunni e genitori è organizzata dal Centro Territoriale di Supporto, Disabilità e Nuove Tecnologie, il Proveditorato di Arezzo e l'ITIS Galileo Galilei e si svolgerà venerdì 22 aprile alle 17.30 alla Borsa Merci di Arezzo. Fronteremo la tematica sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista legale con la presenza della polizia postale e la presenza di un avvocato specializzato in cybercrime. L'apertura di uno sportello deve servire da ascolto, da consulenza a tutte quelle persone, sia insegnanti ma anche ragazzi, che ci possono raggiungere attraverso un indirizzo di posta elettronica per avere un supporto e sapere magari come potersi comportare. La sicurezza ha tante declinazioni e anche la capacità di monitorare bene ciò che avviene in rete è un elemento che ormai si pone come urgente e non si pone però come casuale, quindi ci vuole competenza, ci vuole capacità, ci vuole consapevolezza, ci vuole rigore, ci vuole attenzione e sono tutte cose che cercheremo insieme di mettere in campo grazie al lavoro importante di questi professori. Nel corso dell'iniziativa sarà premiato anche il vincitore del concorso indirizzato agli studenti per la realizzazione del logo dello sportello di ascolto Help Cyberbullismo che a breve sarà aperto. Il concorso è stato vinto da Silvia Marzotti, una ragazza, una studentessa del liceo artistico e il nostro volantino rappresenta quello che lei ha creato, ci è piaciuta, ma diciamo che hanno partecipato tantissimi ragazzi abbiamo avuto più di 60 volantini. Sarà premiata solo lei perché abbiamo intenzione di esporre tutti i lavori fatti da tutti i ragazzi. Grazie a tutti.